Siamo ad American Jeans Centro Commerciale Due Mari Maida. La nostra Federica indossa un vestitino nenet, molto estivo, bianco e nero, una borsa trussardi a tracolla e una magnifica scarpa aperta Gaudi. Vi aspettiamo! La nostra Federica che indossa un abitino elegante di rinascimento con una bellissima scarpa Gaudi aperta e una bellissima tracolla sempre più sardi. Grazie a tutti!